buongiorno ciao sto facendo il sugo il suo con il gas al minimo lo faccio lo sto facendo so bollire eccolo qua mamma mia che roba giriamo la costina la salsiccia di fegato le carote il sedano la pancetta promette bene una giratina qua una di qua una su una giù e poi ricopriamo adesso deve si deve ridurre un po e un'oretta bisogna che va deve pulire un'altra oretta ciao a tutti amici buon carnevale buon martedì grasso ciao un saluto da giuseppe benissimo e si sa